Umberto Locatelli passa il testimone per la presidenza dell'Unione Industriale del VCO. Che cosa lascia e quale il suo augurio al suo successore? Lascio un quadriennio di cambiamento. Naturalmente il cambiamento non è sufficiente perché oggi dobbiamo progredire. L'avvicendamento è essenziale per una società, in genere per un'organizzazione tipo la nostra associativa, che ha sempre la necessità obbligatoria di perfezionare, migliorare, avvicinare, condividere. Michele Setaro è il nuovo presidente dell'Associazione. Come affronta la sfida di questo quadriennio? Sicuramente seguiremo il percorso tracciato dalla precedente presidenza, per cui saremo coinvolti sull'innovazione in maniera importante, guardandola a 360 gradi, per cui in particolare per le nostre aziende applicheremo e porteremo della formazione sulla lean production, il sistema giapponese per ridurre gli sprechi. Questo è il primo passo per poi andare su innovazioni più importanti, 4.0, eccetera. Ma non ci fermeremo a ciò. Sicuramente dobbiamo rafforzare la nostra struttura dei servizi ed essere al pari delle altre territoriali. Guarderemo anche a tutto l'aspetto della comunicazione e delle trasmissioni digitali, per cui ci occuperemo della fibrotica. Abbiamo un cavo in fibrotica importante che arriva a Verbania. Guarderemo anche ovviamente all'internazionalizzazione. Le nostre aziende fanno dei prodotti particolari, per cui ci sono dei mercati che possono assorbire questi percorsi, però abbiamo tante piccole aziende che devono essere accompagnate all'estero. Inoltre, uno degli aspetti che vorremmo considerare, ma questo lo vedremo più avanti nel mio mandato, sarà il turismo industriale. Quanti sono attualmente i vostri associati? I nostri associati sono circa 200. L'obiettivo è di farli crescere. A questo proposito stiamo organizzando una serie di servizi e stiamo ristrutturando la nostra struttura, proprio per cercare di attrarre e di dare delle risposte concrete ai nostri associati.